La mia vita è la mia vita. Sarebbe già un modo per stare più vicino. Ha molto bisogno d'affetto? Lei no. Lo sa che ha un credito verso di me. Mi sono difilato. Me lo lasci costare ancora per un po', questo credito. Te lo ricordi, però? Ma ho l'impressione di scordarmi ogni giorno qualcosa. E' uno per me. Io sono venuto qui per parlare con lei. La mia vita è la mia vita. Che, 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 che... Mi trova qualcuno che venga a giocare con me? Io non vado bene. No, troppo vecchio. Se gioco con lei certamente ringiovanisco. Io non voglio ringiovanire. Perché? Avanti, mi dica perché. Ecco, avrei vinto. Per vincere il portacifero deve arrivare in uno di questi quadrati qui, gli ultimi. Che cosa ci giochiamo? Ognuno pensa dentro di sé quello che vuol vincere. Poi ce lo diciamo alla fine. Io mi chiamo Valentina. Ma cos'ha la mia faccia? Che tutti mi chiedono perché sono triste. Me lo dicono in casa, me lo dicono gli amici, anche quelli che non conosco. Non c'è niente da ridere, la notte sto sveglia, la luce è sempre accesa. La luce è sempre accesa, fino al mattino, fino al mattino. Dimmi perché non ritorni a casa, a casa da me. Uomo caro, il mio amore è fedele, fedele, fedele. Ma tu non sai che sono triste al mattino, triste quando vado a letto. Sono triste perché ho bisogno, ho bisogno di te, che tu mi tenga le mani. Mio uomo torna a casa, prima che sia, ormai è troppo tardi. Mio uomo, mio uomo, mio uomo. Sono triste d'estate, triste d'inverno, triste d'autunno. Ed anche in primavera, anche in primavera, anche in primavera. Sono triste, anche adesso, triste perché non rispondi, non torni più. Tu non torni più a casa, uomo mio caro, così lungo e alto come il cielo. E' uno per me. E' uno per me. E' uno per me. E' uno per me. Ogni miliardario vuole il suo intellettuale. E' uno per me. 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 Grazie a tutti.